Veronica Ursida, da Uomini e Donne allo studio di Giletti. Anch'io tradita con una, Twingo, nel 2020, è stata tra le protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne. Dopo la conoscenza con Giovanni Longobardi Veronica, mamma di un ragazzo, ha lasciato il programma. Oggi è opinionista nel talk di Giletti, dove si occupa per lo più di dinamiche sentimentali e di relazioni tossiche. Veronica Ursida è l'ex dama del trono over che, non avendo trovato l'amore a Uomini e Donne, ha chiuso con il dating show nel 2021. Oggi però non è scomparsa dalla TV, anzi, ricopre un nuovo inedito ruolo. Da qualche tempo infatti è ospite nel parterre di Non è l'arena, il talk di Massimo Giletti è a pronta diversi tempi. Ciao! 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 Grazie per la visione! Ah, non è l'arena. Si occupa principalmente di tematiche sentimentali e di relazioni tossiche. Il suo sogno? Quello di partecipare al Grande Fratello VIP. Veronica Ursida a Uomini e Donne Trono Over, 2020.